del telefono perché si è chiuso perché non c'è memoria ovviamente prima c'era un sacchissimo di memoria e poi dopo un po' mi dice mi hai abbandonato, memoria per te non ce n'è più e questo è giusto che l'ho abbandonato non l'ho abbandonato, se si rompe questo che è indistruttibile che non si romperà mai è indistruttibile io non lo cambio che lo voglio questo qua questo qua nuovo, scusa pulsante rosso ve lo dico perché vi siete stati mali perché non ve l'ho detto vabbè, secondo video pulsante rosso è che andate nelle impostazioni come prima cosa c'è scritto tasto lì e c'è pure il disegno e c'è scritto due tocchi due schiacci due tocchi e vi dà la funzione ora lo apriamo non te lo apro ah, veramente io avevo già fatto tutto avevo già sfatto mail e quindi è così ecco, aspettate ok è così è così ho detto mamma chi è quella riga nel vetro poi era il mio telefono quello vecchio eccolo qua che poi arriva quella cosa che non si può manco sbloccare oh mio dio profumo di nuovo aspettate di quanto lo poso no, io volevo posare una cosa però poi mi sono reso conto di una cosa un'altra allora già avevo scaricato The Twins quel gioco che vi piace che ancora deve uscire e uscirò con questo telefono ve lo dico io poi ma posso? aspetta un attimo scusate aspetta perché no? ah, eccolo qua poi non mi funziona manco internet devo fare qualche cosa allora di giochi già ho scaricato questi e a me non mi ha detto memoria e niente perché c'era 32 e 128 spandibili e a 2 GB di ROM se non l'avete letto là perché si vede tutto in contrario o Mini World Minecraft e Simple Sandbox 2 che è Minecraft che lo uso sempre però Minecraft ci sarà sempre nel mio telefono pure se non c'è perché è un gioco leggendario che non tutti ce l'hanno Mini World è un gioco proprio bellissimo ecco poi telecamera 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 non ne parliamo perché vi stavo dicendo a chi piace a chi piacciono telefoni che fanno foto bellissime comprate telefono S9 o un altro telefono perché l'S9 fa foto bellissime o altri telefoni questo telefono non ne fa foto belle perché l'ho già provato e ora ve lo faccio vedere una allora l'ho scattata una foto a voi scusate se avevo permesso non lo so allora ci dice ci dice che allora ci dice già la marca e questa cosa è brutta però so so che si può cacciare beh 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 la foto l'ha fatta un po' bene cioè devo non guardare però guardate cioè ho il telefono ecco fatto cioè la foto l'ha fatta bella un po' si si capisce no è buona è buona perché io capisco quando le foto sono belle o brutte e questa è bella poi c'è scritto pure figura che figura non so che vuol dire figura di di me forse vuol dire aspetta no la fa pure questa figura la fa buona è molto veloce con 2 giga di ram molto veloce aspettate un attimo che guarda allora ho già scaricato instagram ed è ah aspettate quanto lo aggiungo scusate se se sto facendo però lo devo aggiungere qualche cosa poi è già uscito youtube perché alcuni telefoni non gli escono youtube poi è uscito pure google perché alcuni dispositivi android non gli esce google e si deve scaricare ma no a me è uscito google direttamente poi da notare che bello il lo sfondo riesce bellissimo e devo dire che è molto veloce guardate che bello allora molto veloce aiuto non lo vorrei brigare perché c'è comunque riesce già se potete vedere non so se potete vedere riesce il vetro temperato il vetro temperato già messo e ora vediamo la luce se è potente allora batteria di 5000 infatti mio telefono ora è a 25 perché l'ho aperto oggi quando sono tornato da scuola era già a 50 e guardate quanto è ora a 25 ancora e guardate quanto è durato c'è pure la modalità luminosità notturna notturna sì notturna che potete vedere tutto in giallito perché è vero quando è così allora vediamo ecco questa è la luce perché alcuni telefoni non hanno il led potente questo dai diciamo dai io è potente per me perché poi io me lo sono messo un po' nell'occhio non ho visto più da un occhio poi ho scaricato pure tiktok tiktok più mod per minecraft tante cose e tante musiche quindi vi sto dicendo che ho scaricato questo perché perché mi entrano tutte tutte le musiche cioè valuta perché io ho scaricato l'app perché questo telefono l'app per le musiche non vi esce e ok sapete che voi io io sono all'antica e non sono alla modernità cioè io non mi sento auto blu non mi sento auto blu non mi sento sfera e basta si chiama quello non mi ricordo non mi sento io mi sento le canzoni di una volta perché io sono tutta un altro mondo tutta un'altra cosa cioè io faccio lo youtuber come una una persona moderna però pure gli anziani fanno lo youtuber facciamo finta per insegnare però queste cose e io mi sento canzoni di una volta non so se lo sapevate una volta mi sento canzoni di una volta senti allora perché io ho tutti i tipi di michael jackson e quelle sono già di una volta l'anzorrenti e poi gianni morandi no 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 non è di gianni morandi che tante persone di oggi lo odiano e io no quindi morandi ruggeri tozzi si può dare di più allora io ho soltanto 13 anni e già mi piacciono queste canzoni voi dite perché come mai perché hanno più cose hanno più non so sono meglio no io io basta lo dirò sempre che sono meglio delle canzoni moderne le canzoni di oggi parlano e non cantano soltanto quindi vabbè però potete sentire già la potenza aspetta aspetta ok no allora io la musica la cassa l'ho messa nel microfono quindi per giusto dovrebbe sentirsi veloce forte però dai non giudicate perché a chi piace queste canzoni non si deve giudicare ovviamente andiamo alla boxing cioè andiamo a vedere quello che c'è dentro il pacco allora vi esce pure quella cosa che si mette la scheda perché la scheda si mette qua dentro vi faccio vedere pure gli attacchi perché è importante allora questo attacco non è per tutti i jack per le cuffie no per le si per i cuffie no ma pure per le cuffie tra poco parlerò perché il caricabatterie entra soltanto quello piccolo fino e infatti devo stare attento ma mi è uscito quello là e io e io devo fare eccolo qua così si è visto si è visto poi no ma qualche volta quando mi viene in mente sono moderno ma no è raro pure poi qua dentro così perché queste gommine sono messe proprio per non far entrare l'acqua perché la gomma non fa entrare l'acqua ecco e qua dentro si mette la scheda che vi esce una stranghina di acciaio così no di acciaio di ferro che posso spezzare proprio io con le mie mani ho aperto il telefono scusate aspettate che vi faccio vedere una cosa quando voi abbassate qua sta levetta abbassate andate qua e che vi esce non so se ok non si vede non si vede perché tutto mamma è tutto buio ho paura no allora c'è chi soffre per il buio che non gli piace c'è chi gli piace e io no cioè mi piace certe volte quando la mia mente mi suona allora non so se si è visto c'è scritto water drop under drop camera se tu la se tu la disattivi questa ah no no perché ci sono due tipi di telecamere se tu non la puoi disattivare tu entri appena la entri puoi fare l'acqua e puoi fare i video sotto l'acqua e io già questa cosa la sapevo perché pure nel mio si poteva fare questa cosa però eh poi alla fine non l'ho non l'ho mai voluto provare perché sapete io non mi fido su queste cose di oggi cioè sapete che io faccio faccio video però faccio video ma io lo tengo pulitissimo il telefono lo tengo molto molto ma come si caccia aspettate un attimo no alla fine non si poteva cacciare perché ho scoperto che devi restare due minuti e non si può cacciare proprio bloccato perché è fatto apposta l'ho capito perché mi è arrivato un messaggio e vabbè questi erano gli attacchi questi sono i tuoi pulsanti molto belli che devo dire la verità molto belli per per accenderlo e spegnerlo e riavviarlo alzare e bassare e alzare la cassa eccola eccola là molto potente no devo dire la verità oh mio dio ho scassato no non l'ho scassato perché c'è il vetro temperato pure in questo io mi tengo molto attrezzato in più la cover questo che non ci interessa perché per forza deve uscire se non esce aiuto questo mamma mia la cosa più bella che c'è eh libretto ah possono andare due sim che sarebbero così nel 2020 ormai queste cose si possono pure scogitare guarda qua qua dovrebbe andare la cosa la sim no la sim dall'altra parte quella blu e questa rossa sarebbe dove va la card si può mettere dritta così dritta il vabbè poi il vip che cosa è questo eh storiname pure questo profuma guardate forse si può vincere un altro telefono di questo non lo so vip boh un altro poi amma mia la carta io la odio perché perché io non ce la faccio ah ecco fatto ecco fatto guarda che vi dice qua che può fare i video sotto l'acqua quindi è una canon non so come di chiamarla cacciare un altro coso per parlare no ma che parlare che per parlare ecco qua questo è il secondo vetro temperato che non vi ho parlato non solo ce l'avete già montato il vetro temperato ma voi ce l'avete un altro che sarebbe questo eccolo qua che poi è grossissimo oh grosso per voi forse no però è grosso non lo vorrei no lo voglio rovinare ok e questo era il tutto qua dentro sì perché poi io io faccio poi due carichi io carico batteri e già l'ho messo nella presa così perché ora il telefono è a 23 e e io posso già metterlo in carica quando diventa 15 perché il telefono si mette a 15 non lo mettete mai in carica a 70 a 80 che poi una volta l'ho fatto il telefono è scoppiato quello è indistruttibile così è scoppiato non lo mettete assolutamente perché se si si bampa si bampa per due cose se si bampa si bampa per il coso come si chiama si bampa che si scarica subito e il telefono si scalda spesso subito pure invece si bampa in altro modo che si chiude e non si apre più questo telefono è ulefon se si se si bampa la batteria non lo posso mandare a aggiustare aspettate che metto pure questo qua la cartina trasparente trasparente bianca però vabbè e ci sta questo è il telefono le funzioni ora vi faccio vedere il pulsante rosso andate in postazioni ah è vero che non è come il mio telefono e postazioni ok vabbè se lascio che andavo vado io perché ok eccolo qua eccolo qua questo qua eccolo qua c'è scritto tasto smart tasto smart proviamolo che ne dite ma si proviamolo c'è scritto tre cose qua aia c'è scritto clic singolo quindi uno una volta come per accenderlo clic doppio uno due premute premute a lungo così proprio così paaa e poi quando senti proprio quel bisogno che dite doppio clic dopo avete premuto doppio clic vi esce questo qua eccolo qua tutte queste cose e che succede apri aprire torcia screenshot quindi facciamo finta faccio così uno due ecco ecco fatto ho piazzato la torcia oppure la caccio aprire acqua sotto acqua a camera sotto acqua oppure mettere sos ho fatto uno uno vabbè chiudiamola ok fatto allora ho messo modalità screenshot quindi facciamo aspettate uno due non era quello rosso ah ecco fatto sono pronto uno due aspetta uno due fatta la foto quindi funziona bene il pulsante l'abbiamo l'abbiamo esaminato vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto questo che fai bello che fai eh ma è la foto ah no oppure senza operazione quindi quindi noi non non dobbiamo possiamo mettere pure senza niente quindi questo pulsante in poche parole se mettiamo senza operazione facciamo così non succede niente perché l'ho cacciato il pulsante cioè ho cacciato la modalità che doveva fare il suo lavoro cioè pure l'SOS facevo finta sto morendo sto morendo così ciao 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 sto morendo ok stiamo venendo ok vedete che funziona dai ma ma veramente è buono sto telefono perché non vi dico quanto l'ho costato perché non è giusto eppure essendo perché possono cambiarlo perché io se vado su Amazon che non l'ho scaricato ma lo devo scaricare se vado su Amazon di sicuro ora hanno cambiato forse il Black Friday però questo qua una volta costava 200 euro ve lo dico perché l'anno scorso qualche 300 euro ce l'aveva perché è un telefono molto bello però il telefono che avevo prima un iPhone X2 e non X3 che succede? quell'altro era più grande come schermo invece questo qua è più piccolo ma più piccolo non lo diciamo più piccolo perché io ero abituato con questo che era tanto quanto una casa va bene questo qua è bellissimo e il vetro è buono mi è arrivato senza rigato perché dicono certe persone che da Amazon arrivano cose certe volte aperte già il mio è arrivato bellissimo ovviamente bellissimo ma anche una riga per vedere perché io aspettate un attimo aspetta forse l'ho pulito dai anzi manca una riga perché ora l'ho toccato io perché devo fare così così e quindi ovviamente per forza vabbè ragazzi spero il video vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video domani ciao